L'inizio della nuova stagione calcistica si avvicina. In casa FC Di Giarre la dirigenza è già al lavoro per cominciare al meglio il secondo anno consecutivo in seconda categoria, con l'obiettivo dichiarato di disputare un campionato di vertice. Il primo tassello dell'annata 2016-2017 è giunto ieri, con la conferma in panchina di Giovanni Tropea, che aveva già guidato la squadra giallo-blu nella seconda parte della scorsa stagione. La volontà societaria di creare una continuità col positivo campionato dello scorso anno, terminato in quinta posizione, è dato anche dalla riconferma di ben 18 calciatori, in aggiunta alle trattative per riportare in giallo-blu anche il duo Spina e Indelicato, arrivati lo scorso gennaio in prestito dal Milo. Si muove anche il mercato in entrata, con l'ufficializzazione dei primi due acquisti. Si tratta degli svincolati Andrea Ventaloro, centrocampista di origine gerrese, e dell'attaccante Enzo Micci. I colpi però non finiscono qui. La rosa sarà ulteriormente rinforzata, con l'arrivo di altri cinque calciatori, la cui ufficializzazione è soltanto questione di giorni. Si tratta in particolare di due difensori centrali, un centrocampista, un attaccante e un portiere.